266 Qui, in questi giorni, fa molto freddo. Ho comprato tre stufe elettriche per riscaldare la stanza a settentrione della casa, ma mi hanno dato l'energia elettrica sufficiente al massimo per due. Devono venire a fare dei lavori e allora potremo accenderle tutte e tre. La camera mia è stata riscaldata. Sinora, con l'aiuto del Signore, e tenuto conto che le stufe sono portatili, non ho sofferto veri raffreddori. La stufa a legna è stata portata via. Francesco e Teresa sono però raffreddati, ma escono. E tu come te la passi? E gli altri? Ti ringrazio delle considerazioni che mi hai scritto sull'argomento della sofferenza cristiana. Io convengo con te in tutto. Ho bisogno però di molte preghiere. Per quanto riguarda lo scopolare, stai sicuro che io adesso addosso lo sempre e farò quanto mi sarà possibile per portarlo sempre. Certo, mi farebbe piacere averne uno nuovo. Domanderò poi chiarimenti al mio priore circa la possibilità di tenerlo sotto al cuscino in caso di malattia. Leonardo sta facendo un corso presso una caserma per ottenere un attestato di pilota aviatore. Ha fatto due o tre voli di addestramento. Prega un poco. Roberto è venuto a casa per qualche ora per la festa di San Giovanni della Croce. Il 2 dicembre deve sostenere un esame alla Gregoriana. Francesco studia a Università Commercio e cerca un posto. Teresa accudisce alle faccende di casa. Nelle famiglie degli zii Gilda, Guido e Maria nessuna novità. Ogni tanto vedo qualcuno. Dall'ufficio mi hanno portato una medaglia che su Santità ha distribuito al personale del Ministero dell'Interno. in occasione della visita Udienza Pontificia di alcuni giorni fa. Da una parte è disegnata, anzi scolpita, la Sacra Famiglia e dall'altra parte l'effigie del Pontefice Pio XII. La medaglia è in metallo bianco. Tanti saluti e ringraziamenti ai padri. Pregherò anche per l'anima del Padre Priore defunto. A te la santa benedizione. Pa, pa.